buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione di calendario costurale oggi lavoreremo un po di forza e ci avvarremo di una banda elastica la banda elastica va bene di qualsiasi forma sia come questa chiusa sia le fasce elastiche aperte se non avessi nessuna banda elastica lo farò semplicemente a corpo libero la banda elastica ci va a dare un livello di sfida un po maggiore quello che andremo a fare sarà mettere la banda elastica dietro la schiena facendola passare da sotto le ascelle e se ho la banda chiusa la posso far passare tra il pollice e l'indice se la banda aperta molto semplicemente ne prendo le estremità e quello andremo a fare sarà a fare delle flessioni avendo però questa incombenza della banda elastica che ci rende la vita un po più difficile quindi ci mettiamo a quattro zampe poi stendo una gamba e stendo anche l'altra il pube un po ruotato verso il mento la pancia è tirata leggermente in dentro se sentissi che è un po troppo impegnativo posso appoggiare le ginocchia sul pavimento che però stanno un po più indietro rispetto al sedere fatto sta che la pancia sarà comunque un pochino in tensione e il coccice la codina sarà un pochino rivolta verso il basso da questa posizione sia che ho le gambe stese sia che ho i piedi in appoggio inizio a piegare i gomiti mantenendoli abbastanza vicini al corpo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e si scioglie un po la posizione si sciolgono un po le braccia faremo altri due round da dieci ripetizioni che avesse bisogno come sempre può mettere un po in pausa e aspettare che il corpo si sia ripreso per la nuova sfida noi ci rimettiamo la banda elastica dietro la schiena la facciamo passare sotto le ascelle mi raccomando quello che andrò a fare come abbiamo visto è stendere le braccia e un po piegarle mantenendo i gomiti abbastanza vicini al costato quindi senza aprirli lateralmente ci posizioniamo o con le gambe stese o con le ginocchia in appoggio comunque un po più distante rispetto alla posizione del bacino ruotiamo il pube verso il mento e incominciamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e di nuovo si sciolgono un po le braccia posso anche ruotare un po le spalle se avesse un po di risentimento anche la ultimo round ci mettiamo di di nuovo la banda dietro alla schiena la facciamo passare sotto le ascelle e si parte per l'ultimo round stendo le gambe ruota un pochino il pube verso il mento e si parte uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e la banda elastica la possiamo mettere da una parte noi giunti a questo punto ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani musica 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 musica